A differenza di Torino che la situazione è diversa perché ci vuole un intervento veramente delle forze dell'ordine questi sono sgomberi comunali che dovrebbe fare con la polizia municipale avendo avvertito poi la polizia il comune Sì, che magari erano fatti già un anno fa, anni fa, tre anni fa Io capisco che si spostano da una parte all'altra quando fai questi sgomberi però i comuni dove comunque intervengono subito Sì, poi lì deve avere la sicurezza del territorio e probabilmente il presidio Sì, però poi bisogna che intervengano i comuni Non è accettabile per i cittadini avere delle zone che non sono più zone loro dove avere paura a girare quando in realtà basterebbero degli interventi veramente, fra virgolette, da niente Non si parla di cose incredibili Questa è proprio volontà politica queste situazioni Che evidentemente non c'è stata però da un po' di anni perché lì è rimasto tutto sul ruolo La diga è un telegramma Un telegramma, è una questione di numeri Noi possiamo aiutare chi scappa da una guerra Tutti gli altri non ce la facciamo perché siamo pieni, come giustamente lui ha detto Di italiani che non arrivano più a fine mezza Dobbiamo aiutare loro E scappa l'applauso